Noi abbiamo deciso di aumentare proprio la prevenzione, la formazione, i controlli e cercare di aumentare la responsabilità delle imprese in una partita difficilissima. Ancora registriamo un dato positivo, stanno diminuendo gli incidenti sul lavoro e questo è dovuto a due fattori, purtroppo uno positivo e uno negativo. Quello è che stiamo lavorando bene dal fronte alla sicurezza e dall'altro perché sta calando l'occupazione e quindi abbiamo un problema reale. Però noi dobbiamo continuare con le buone prassi, dobbiamo continuare con i comportamenti, dobbiamo continuare aumentando i controlli. Allora l'esempio di oggi è quello delle buone pratiche, tutti insieme, Formed, INA, La Regione, cioè il sistema che si mette in gioco e cerca di valorizzare le imprese, come dico io, quelle col fisico, quelle che hanno la capacità di impresa, che sanno lavorare, che hanno la capacità finanziaria ma hanno anche quell'etica sociale, quell'etica di impresa che noi riteniamo importantissima perché la sicurezza è per noi fondamentale nei cantieri edili, nei cantieri delle costruzioni ma in generale nel lavoro della nostra regione. Per questo noi continueremo a tenere alta l'asticella della responsabilità, la collaborazione tra le istituzioni e soprattutto agendo ancora con nuove leggi perché dobbiamo continuare a far capire che in Emilia Romagna l'illegalità deve stare fuori, fuori per continuare a premiare le imprese e i lavoratori che si mettono in gioco e che vogliono puntare al futuro della nostra regione con un lavoro serio e dignitoso.